Ma i due impegni successivi, entrambi casalinghi, causeranno invece un inatteso passo indietro. Contro il Bari, che gioca benissimo a zona, la Samp ha grosse difficoltà di spazi. Per di più è giornataccia per il povero Paolone Conti, che incassa un gol incredibile dal terzino armenise. Palla sulla riga di calcina, rimbalzo assassino e i pugliesi vanno in vantaggio. A 10 minuti dalla fine, rimedia Zanone e si conquista almeno un punto.